Ciao, eccoci qua, sono Matteo, io sono Filippo e siamo partiti 5 giorni fa, dopo 5 giorni di cammino, da Sesto Calende, il Lago Maggiore, siamo arrivati a Pavia, eccoci qua, il punto è coperto. Sta iniziando a piovere. Sta iniziando a piovere, in questa vacanza non è mancato nulla, non è mancato veramente nulla, tra trasborghi veramente lunghi. Siccità, pazzesca. Sole, posto oggi pioggia, ma è stata un'esperienza ragazzi pazzesca, è stata veramente un'emozione appagante, un'esperienza indescrivibile. Che dici, Phil? Tanta pace, tanta natura, tanta tranquillità. Ma si pagaglia parecchio. Tanta fatica. Quanto ci avete messo ad arrivare a Pavia? 5 giorni pieni, 5 giorni di cammino pieni. Esatto, tra tutto è stato molto faticoso, ma assolutamente soddisfacente. Consigliato. Consigliatissimo ragazzi.